ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale allora oggi video acquisti per farvi vedere che cosa ho appunto comprato vediamo subito innanzitutto qui c'è scritto il mio nome campagna e qua c'è una bella scatolina ma prima di iniziare facendovi vedere questa carta che ho usato per l'occorrenza con tutti questi fiori speriamo si vedano bene le cose che ho acquistato volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di accendere la campanella per le novità e se vi è piaciuto questo video di mettere un pollice su sennò amici come prima non importa ok andiamo a vedere il contenuto di questa scatola bene io ho fatto quest'ordine anzitutto devo essere sincera ecco qua c'è tutto il floribor ho fatto questo acquisto perché 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 volevo comprare una cosa in particolare che adesso vi mostrerò e che sinceramente non mi raccorta quando ho aperto il pacco mi sembrava non ci fosse già mi sarebbe un infarto ok come non me l'hanno mandato fatto l'ordine apposta ma poi ma poi niente ho fatto quest'ordine praticamente copiando pari pari gli acquisti di una certa mirella di mirarte non so se la conoscete io non ho mai sentita nominare ho visto che lei ha fatto questo acquisto e io ho comprato praticamente copiando quasi tutto quello che ha comprato lei e quindi vediamo che cosa ho copiato prima di farvi vedere l'oggetto per il quale io ho fatto l'acquisto allora innanzitutto passiamo dalla parte dalla coda dagli omaggi ci sono arrivati il negozio questione è come vedete bene perline e bijou mi sono arrivate queste simpatiche super duo in questa colorazione nero e blu non c'è scritto il codice peccato perché sono poi vuole ricomprare come fa che queste perle da 4 verdine molto carine vi ringrazio grazie per avermi spedite e poi qua c'è dell'altra rovetta eccola qui allora io ho preso e vi cose allora ho preso queste perle in misura come potete vedere da 4 da 6 e mi sembrava anche da 8 ma forse sogno sì perché la 8 non ci sono non lo prete proprio perché questa certa mirella aveva preso questo colore questo iridescent red e quindi l'ho preso anch'io bene poi aveva preso queste super duo perché a questa signorina piacciono delle colorazioni molto shabby chic e allora io papale papale le ho copiato le colorazioni di super duo che ha comprato lei che sono queste ve le faccio vedere molto velocemente poi qua sotto vi metterò il link del suo video acquisti giusto per non ripetermi quindi nella descrizione nello specifico così potrete andare a vedere anche quello che ha comprato in più lei e sono delle colorazioni che stanno molto bene insieme come lei suggeriva e io ho seguito i suoi acquisti cioè i suoi consigli per gli acquisti poi ho preso queste qua che in realtà qua si vedono come un verde sparato ma sono molto più più soft più belle dal vivo che qui anche come le vedete qui in video però purtroppo non so come fare per farvele vedere perché è sera e così non si riesce a capire bene andate a vedere il suo di video che è forse un po' tipo così sì e l'ho preso in queste tre misure niente niente che ci scappa magari un uno schema di ana che dovrei ancora comprare veramente pensare di farlo poi ho preso altre perle così personalmente con queste di fare un orecchino se riesco molto particolare vediamo e poi queste qua un rosa più chiaro poi queste mi sembra che siano sempre un una colorazione che ha preso anche appunto questa Mirella poi ho preso questo arancio non so perché perché di fatto a me l'aranzione non piace però non so come mai mi è venuto in mezzo di prendere questo arancione non è brutto è bello però poi ho preso queste goccine queste sono simpatiche davvero e questa tonalità soft molto shabby chic visto che sarebbero bene secondo me con queste qua sì ok e poi ho preso queste perline che sono le Mobi Duo in queste tre colorazioni e questo perché perché appunto veniamo dunque io ho fatto questo ordine perché volevo comprare un kit un kit di un bellissimo strepitosissimo figo ecco figo se vuol dire figo figo schema che ho visto appunto da questa Mirella Camperchioli in arte milarte e ve lo faccio vedere anche a voi a me è piaciuto subito quindi ho detto voglio fare questo paio di orecchini e quindi voglio assolutamente comprare il kit perché io poi sono per i kit perché secondo me sono una formula vincente e quindi ho fatto questo ordine per il kit poi apro la scatola così ero di corsa e dico oddio il kit non c'è si sono dimenticati e stavo già aprendo tutto quanto quando ho visto che non ho accorto poi che c'era scritto qua un codice così che non capivo e poi ho visto le Mobi Duo di questo colore ho detto ah no meno male ho fatto proprio ho diventato un sospiro di solevo ho detto si me l'hanno mandato il kit non l'avevo riconosciuto e per fortuna che l'ho riconosciuto in tempo perché se no ordinata come sono io avrei già aperto e disseminato la confezione ovunque infatti adesso prendo la scatolina e vi faccio vedere di questo kit di cui vi ho postato la foto avete visto che bello che è dentro ci sono appunto le perline e quindi ve le faccio vedere allora e qui sotto poi vi metterò anche il link proprio in cui viene spiegato questo kit e c'è anche ovviamente il tutorial free su YouTube allora le Mobi Duo in oro la colorazione questa qui che non so a leggervi perché sennò diventa troppo lungo le Super Duo in due colorazioni le 15 e le 11.0 guardate che bene che sono che stanno insieme questa certa Mirella è proprio brava negli accostamenti gli anelli i pernetti molto carini le perline da 6 e guardate che bel colore questo questo è proprio bellissimo ma non so farvi un doppione di quello che ha già fatto lei gli orecchini ve li ho fatti vedere sono top vi consiglio di farli li farò anch'io poi ve li farò vedere quando li verrà finiti e questi colori a me non stanno molto bene con i miei capelli altrimenti me li terrò io quindi li alienerò e niente questo era il mio video acquisti appunto nato per perché avevo voglia di prendere questo kit e poi metto tutto nella scatola perché sennò quello che ho fatto tutto qua dentro e lo mischio con il resto e niente vi lascio qua sotto i link di modo che anche voi possiate copiare come me gli acquisti di Mirella perché non solo si copiano i tutorial ma si copiano anche gli acquisti sono nati in fondo per questo di video recensioni o no va bene vi saluto tutte ci sentiamo presto ho in serbo alcune sorprese ve l'ho già detto solo che non ho tempo di caricarle di prefinire sono un casino insomma e mando tanti baci alla mia amica Mirella oggi mi andava di fare una mattata ti voglio bene lo sai e ti ho copiato spudoratamente ma dovevo avere il tuo kit ok ciao a tutte battendo così faccio saltare la videocamera lo so scusate chiedo venia un bacio a tutte ci vediamo presto ciao 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 ciao